Stiamo lavorando ormai da settimane una nuova trasmissione, sapete da adesso ufficialmente Antena 3 dicembre 78, quindi compie 40 anni e stiamo lavorando, come dicevamo, una trasmissione insieme al nostro volto storico e già di Antena 3, Lucio Zanato. Antena 3 nasce il 18 dicembre 1978, nasce non tanto a Treviso, nasce all'aeroclub di Treviso, il nostro è un viaggio non solo, diciamo così, vogliamoci bene, rivediamoci bene, ma è anche un viaggio nella storia, perché molte persone non sanno, ad esempio, da dove nascono le URSS, tu lo sai. Beh, tra l'altro c'è un archivio immenso che tu stai scandagliando, no? Esatto, però noi sappiamo, adesso tutti parlano delle unità sanitarie locali, ma da dove nascono? Nascono dall'ex INAM e diamo a vedere le prime immagini, guardate dove c'era il Palazzo dell'INAM, c'era l'Istituto Nazionale di Assistenza Mutualistica che poi è diventata USL, questa è Borgo Cavalli. Il viaggio che noi faremo è un viaggio su tanti volti, per cui la cosa che mi interessa maggiormente, oltre che far raccontare queste cose, quello che mi interessa maggiormente è che voi lo seguiate, sto parlando ai nostri telespettatori, perché ci passate, ci siete, sicuramente se non ci siete voi c'è stato vostro papà, c'è stata vostra mamma, c'è stata vostra sorella, qualcuno a Treviso sicuramente davanti alla telecamera di Antena 3, tutti sono passati, e sono passati intere generazioni, ci sono immagini stupende dei nostri comuni come non sono più. Un viaggio meraviglioso che vogliamo fare insieme, ricordati, è già un fascino il fatto di poter rivedere a Treviso il Veneto di un tempo. Grazie a tutti, grazie a tutti.